Il nome del popolo italiano, la Suprema Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente dall'intervizione dai pubblici uffici. La Suprema Corte di Cassazione rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Che bello, che bello, quanto è bello, ok, ricapitoliamo. La Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata.